Vincenzo Salerno, ieri a Roma dai presidenti di Camera e Senato insieme agli obbligazionisti della De Iulemar, come è andata? Un altro passo in avanti sulla strada difficile e tortuosa di provare ad ottenere un ristoro per i nostri concittadini truffati. Il crack ha coinvolto 13.000 famiglie, un crack che fuori dai nostri contesti abbiamo anche difficoltà a spiegare l'entità e spesso facciamo un parallelo. Il crack Parmalat in tutto il mondo ha recato poco più di 10 miliardi di euro di debiti, qua parliamo di quasi un miliardo di euro su una nocciolina rispetto alla mappa mondiale che è il territorio vesuviano ma in particolare di Torre de Greco e questo serve come parametro per rendere l'idea della tragicità dell'impatto che ha avuto il crack di Iulemar. Avete consegnato le firme raccolte, che cosa chiedete con questa petizione popolare? Abbiamo raccolto quasi mille firme e con soddisfazione e convinti che possa essere una strada vincente, l'abbiamo protocollata tanto al Presidente della Camera quanto a quello del Senato. Poi ieri con il Presidente della Commissione Bilancio, il Senatore Pesco, abbiamo ipotizzato la possibilità di intervenire sin da questa legge di bilancio con un emendamento che vada sulla stessa lunghezza d'onda. Bisogna incominciare sempre di più a vivere questa vicenda senza colore politico ma con il coinvolgimento di tutti gli attori politici coinvolti dal Parlamento alla Regione ai Comuni perché il crack per le dimensioni di cui accennavo prima riguarda tutti, non ha un colore politico. Una battaglia che va avanti da ben nove anni. Nove anni, nove anni che sono un'eternità ma poi se parametrati al percorso legale e politico che è stato fatto sono anche anni che sono stati necessari. Giusto per dare un'idea, spiegare come ho anticipato, la struttura della truffa dei Ulemar a chi non viveva il territorio era quasi impossibile. Le sentenze che nei vari gradi e nel tempo sono arrivate hanno permesso di poter finalmente descrivere e costruire anche agli occhi di chi non viveva le nostre realtà quello che è stata la truffa nella sua essenza. In rappresentanza degli obbligazionisti truffati ieri a Roma, anche Agnello Ferro, siete soddisfatti degli esiti dell'incontro? Sì, eravamo io e Giovanni Aurilia come rappresentanti degli obbligazioni soddisfattissimi perché il presidente Daniele Pesco già ci ha conosciuto, già diversi anni fa, nella Cassazione per l'acquisizione della società di fatto, ha conosciuto, si è ricordati di alcuni nostri amici che stanno un po' in difficoltà a casa e ci aveva mandato i suoi saluti e quindi noi abbiamo avuto buone prospettive anche perché la competenza di alcune persone che hanno soddisfatto questo nostro tavolo ieri ci ha fatto fai che abbiamo detto che si fa avanti con, non dico a gonfie vele, ma comunque ci siamo ecco. Un crack che come sappiamo ha messo in ginocchio l'economia della quarta città della Campania con dei veri e propri drammi per alcune famiglie torresi, ieri voi avete lasciato anche una lettera per il ministro. Sì, abbiamo lasciato una lettera al presidente Daniele Pesco per il ministro Marta Cartabia perché si interessasse meglio del problema di Torre Annunziata, che c'è un solo giudice che sta seguendo tutti i processi, c'è un po' di lavoro da svolgere veramente e questa lettera esprime tutto il nostro grido di dolore, i vari passaggi che in questa fase stanno lagunando proprio il nostro ideo giudiziario e quindi abbiamo chiesto per cortesia cercate di intervenire subito, fate presto, stiamo lasciando troppi morti in giro. Una data significativa per questa vicenda della De Iule, ma è il prossimo 15 novembre, perché? Il 15 novembre aspettiamo la data della sentenza penale, abbiamo i Dallagatta e i Lemboli che hanno 15 anni di carcere che sono lì sul groppo, come si sa dire, anche le donne, la Iuliana, 5 anni e mezzo, poi ci sono ancora altre cause sospese quando riguarda altri penali, quindi noi ci aspettiamo qualcosa di buono e di positivo subito perché stiamo aspettando da due anni questa sentenza, che potrebbe essere una sentenza di effetto domino per altre sentenze, attendiamo quella causa della BOF già da qualche tempo, attendiamo le 12 banche che siamo in causa, attendiamo i trassi svizzeri che potrebbe essere un buon inizio perché è una delle prime sentenze che dopo dieci anni che noi stiamo aspettando. Grazie